Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. Si apre oggi il calciomercato dei professionisti. Una sessione invernale che interessa anche la samba, la ricerca di under per completare l'organico e per piazzare i calciatori che non rientrano più nei piani tecnici di Alfonsi e del club. Il primo obiettivo è quello di trovare almeno un paio di giovani, soprattutto a centrocampo, dove ad oggi Alfonsi ha a disposizione solo Félix Rabacal e Boti. Hanno infatti lasciato la samba, i difensori Luccarini e Bianchino, il centrocampista Becaert rientrato in Belgio e l'attaccante La Schirle. È arrivato invece l'esterno difensivo Luzzetti, mentre è tornato a disposizione del tecnico Lorenzo Alboni, dopo l'operazione accrociata anteriore il ginocchio destro. E quindi è fondamentale trovare altri under per la zona nevragica del campo. In procinto di lasciare la samba c'è anche il portiere classe 2004, Jacopo Corci, che finora ha collezionato quattro presenze e tornerà al Genoa per fine prestito. L'over guerrieri si è conquistato sul campo la fiducia dello staff tecnico e, ad Avezzano, Alfonsi in panchina ha portato il giovane Berti, che ha recuperato l'infortunio alla mano. Corci, quindi, una volta tornato in Liguria, sarà girato di nuovo in prestito in D con il brindisi in testa. Ma la parentesi di gennaio servirà alla samba anche per cercare di piazzare gli elementi che non rientrano più nei piani tecnico-tattici rosso-blu. In testa ci sono Migliorini e Chinellato. Il primo, dopo l'esperienza di Gubbio, vanta ancora qualche stimatore in Lega Pro. Stesso discorso per Matteo Chinellato, da diverso tempo fermo e box a causa di un infortunio muscolare. L'attaccante rosso-blu dopo la doppietta di Tolentino si è fermato e non ha più visto il terreno di gioco. Ma ci potrebbero essere anche delle altre partenze, nel caso in cui i calciatori interessati siano richiesti da Clebri Serecì. Intanto, domani, la samba riprenderà la preparazione in vista della prima giornata di ritorno, in programma per domenica prossima 8 gennaio. Al Riviera delle Palme arriva il Monte Giorgio.